Presidente, Mark Twain diceva che se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare e infatti un tempo votare non faceva alcuna differenza, infatti ce lo lasciavate fare. Ci avete fatto votare per il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e Bersani e poi vi siete spartiti quei denari trasformando il finanziamento pubblico ai partiti e rimborsi elettorali. Ci avete fatto votare il referendum sull'acqua, salvo poi disattenderlo totalmente perché l'acqua continua ad essere di fatto privata e questa falsa ipocrita sinistra l'ha anche cavalcato. Ci avete fatto votare a delle elezioni del 2013 perché non si poteva fare differentemente e poi avete di fatto bloccato un cambiamento sancendo con una vergognosa rielezione di Giorgio Napolitano per la seconda volta l'inciucio per santificare la possibilità che uno come Alfano diventasse ministro prima degli interni e poi degli esteri con quel partito che deriva dal partito comunista italiano. Questa è la verità. Non votare non faceva alcuna differenza e quindi lo lasciavate fare al popoluccio. Oggi che vi rendete conto che votare può fare qualche differenza e nonostante una vergognosa campagna referendaria in cui la RAI si è schierata in maniera indecente a favore del sì, il no ha vinto con il 60 contro il 40 per cento, iniziate a temere tutti quanti e fa davvero scalpore che inizia a temerlo ancora di più la sinistra, cosa? Il voto popolare. Per cui occorre in ogni modo bloccare il voto popolare, disinnescare un referendum sul Jobs Act, magari con mozioncine come queste, facendo intervenire questo Parlamento in fretta e furia per disinnescare il referendum per poter dire la parte di sinistra, avete visto, abbiamo fatto un piccolo miglioramento su questa indecenza che sono i voucher e voi salvarvi ancora una volta la faccia da un popolo che ha il diritto di esprimersi e sapete che si esprimerà contro di voi perché vi odia, perché siete voi che odiate questo popolo. Questa è la realtà. E quindi avete paura voi oltretutto che avete inserito la parola democratico nel vostro simbolo perché proprio altrimenti non ci crederebbe nessuno. Voi avete paura della democrazia, siete i personaggi che iniziano a dire, scaldatevi, i personaggi che iniziano a dire che quando il voto del popolo coincide con i vostri desideri è democrazia. Se il voto del popolo va contro i desideri vostri, quindi dell'elite, si tratta di deriva autoritaria, di populismo, di chissà che cosa, addirittura si teme la possibilità che un cittadino possa scegliere e votare perché sceglierebbe contro quel che avete scelto voi. E noi, lo dico a SEL, dobbiamo permettere a questo Parlamento di poter intervenire sul Jobs Act, sui voucher. I voucher per noi in piccolissime occasioni potrebbero essere utilizzati, ma dato che si tratta di un far west assoluto, meglio abolirli in questo momento del tutto e gli unici che sono titolati ad abolire l'indecenza che voi avete approvato per rendere questa Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica fondata sui voucher e sulla precarietà, l'unico modo è un referendum popolare che ci riveste il prima possibile magari assieme ad elezioni politiche perché questo Parlamento non è più degno di legiferare, perché negli ultimi settimane vi è stata bocciata la riforma Madia sulla pubblica amministrazione della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato vi ha bocciato il decreto sulle banche popolari, di fatto l'Unione Europea vi ha bocciato la finanziaria con la quale il vostro Renzi ha dato mancette a destra e manca per provare senza riuscirsi a comprarsi il voto del referendum e oggi l'Unione Europea chiede il conto e lo dovreste pagare voi il conto, voi che avete approvato quella finanziaria, 3,4 miliardi di euro. Molto probabilmente oggi la Corte Costituzionale boccerà la legge l'Italicum che voi avete fatto, che voi avete detto che sarebbe stata la migliore legge del mondo, che voi avete detto che ce l'avrebbe copiata a mezza Europa e ve la boccerà la Corte Costituzionale. Io dico a cittadini, Presidente, ma se un cittadino si fa operare da un chirurgo che dimentica il bisturi nello stomaco, poi lei pensa che tornerà dallo stesso chirurgo? Qual è la differenza con politici che votano prima il Porcellum per tanti anni in Costituzionale? Non lo cambiate, ve lo boccia la Corte Costituzionale con sentenza del primo, la numero uno del 2014 e fate una legge elettorale che verrà di nuovo in parte molto probabilmente bocciata dalla Corte Costituzionale. È per quello, Airaudo, che questo Parlamento non si deve permettere di mettere mano al voucher, perché che farà? Un'altra ennesima schifezza per prendere in giro gli italiani. Il popolo italiano si deve esprimere, deve bocciare il Jobs Act, Onorevole Di Battista, formalmente si rivolga alla Presidenza. Perché questo Parlamento meno tocca palla e meno fa danni. Grazie.